Mi è veramente delosa papà, sono arrabbiatissima. Mi puoi chiamare per dirmi se stai bene? Sei mai andato dallo stretto a cervelli, Eric? Lo sai che mi hai chiesto? Quando è stata l'ultima volta che sei stato felice? Oggi all'Old Trafford, il ritorno di Eric Cantona, il più talentuoso, umorale e chiacchierato calciatore del Regno Unito. Cantona controlla, va tutto da solo, cerca a parte per il tiro e lo trova. Eric Cantona, ancora una volta per il Manchester United. Franceschi, la parola è buona, Cantona controlla in corsa, Ganschino, Manchester United in passaggio! Trinca, 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 il re, il re, il re, c'è un capello, se è capio a te, è più grande, c'è davanti, che la storia rimancherà. Cantona? Ancora Cantona? Sono sotto di uno! Cantona è in gol per il Manchester United! Carico questa! Sì, Cantona sì! Eric Cantona è in gol per il Manchester United!